Il valore del Fondo Tamburini per la comunità marchigiana è un valore importante, non a caso questo patrimonio librario che rischiava di andare in rovina viene recuperato con un finanziamento della Regione Marche voluto dalla prima commissione consigliare che si era incontrata con il tavolo della salute mentale, con un finanziamento di 18.000 euro che serviranno per il recupero e la catalogazione di tutti i volumi che saranno trasferiti poi in un luogo dove saranno disponibili, fruibili sia alla comunità scientifica che non. La salute mentale è un tema importante non solo dal punto di vista sanitario ma direi dal punto di vista socio-sanitario per l'intera comunità marchigiana. Il nostro obiettivo deve essere anche quello che abbiamo già votato in Consiglio regionale con una mozione che deve essere quello di incrementare le risorse finanziarie, considerare il tema un tema non sanitario ma socio-sanitario che deve vedere fortemente il coinvolgimento delle famiglie, la presa in carico degli utenti perché gli utenti soprattutto anche con la prevenzione possono rischiare di arrivare al disagio. Quindi è un tema rilevante per tutta la nostra comunità e che ci deve vedere impegnati in prima linea. Non a caso la mozione fu approvata in Consiglio regionale all'unanimità.